In quale modo Diocleziano tenta di uscire dalla crisi del terzo secolo? Lo vediamo. Crisi del terzo secolo finì intorno al 284 quando divenne imperatore Diocleziano. Chi era? Era un generale dell'esercito che rimase in carica 21 anni mettendo in atto alcune riforme molto importanti. Innanzitutto rafforzò il potere di governo dell'imperatore. Fino a quel momento le decisioni prese dagli imperatori venivano presentate al popolo come fossero stabilite dal senato e in questo modo si voleva rispettare la tradizione della repubblica quando le decisioni sulla vita comune dello stato erano prese da persone scelte dai cittadini cioè dagli eletti per esempio i tribuni della plebe. Diocleziano invece disse chiaramente che le decisioni erano solo le sue. Lui faceva le leggi e tutti dovevano obbedire anche perché sosteneva Diocleziano che il suo potere venisse dagli dei e lui stesso fosse un dio. Solo i cristiani si rifiutarono di adorarlo e per questo furono considerati una minaccia per l'impero e perseguitati. Da soldato Diocleziano sapeva che era impossibile difendere l'impero rimanendo a Roma che era una città molto lontana dai confini e per questo divise in due il governo dello stato. Da una parte oriente da una parte occidente. Ogni parte quella orientale e quella occidentale fu affidata ad un Augusto che a sua volta assegnò a un Cesare metà del proprio territorio. In pratica l'impero era sempre uno ma lo governavano in quattro. Un Augusto e un Cesare d'Occidente, un Augusto e un Cesare d'Oriente. Secondo Diocleziano la tetrarchia, una parola greca per dire governo di quattro, potere di quattro, permetteva una successione pacifica al trono. Infatti nei piani di Diocleziano gli Augusti erano gli imperatori e i Cesari i loro successori. Come avveniva la successione? Dopo venti anni di regno l'Augusto doveva lasciare il trono al suo Cesare che divenuto Augusto a sua volta nominava un successore, nuovo Cesare. La tetrarchia aveva anche un altro vantaggio, rendeva più forte la difesa dell'impero. Infatti Augusti e Cesari non vivevano a Roma ma nelle nuove capitali della parte d'Occidente. A Occidente Milano e Trevili in Italia e in Germania e d'Oriente Nicomedia e Sirmio nell'attuale Turchia e in Serbia per l'impero d'Oriente appunto. Così queste capitali si trovavano più vicino ai confini e vicino a queste capitali c'erano le truppe dell'esercito che venivano comandate dagli Augusti. Per questa ragione Diocleziano divise l'esercito in truppe di frontiera che avevano il compito di controllare i confini, il Limes, e truppe di combattimento, per lo più reparti di cavalleria soldati a cavallo che erano in grado di intervenire rapidamente in caso di attacco. Badate che invece le forze a piedi erano quelle di fanteria. Diocleziano interviene anche sull'economia. Aveva trovato un impero impoverito con le casse dello Stato quasi vuote, un'inflazione molto forte. L'inflazione c'è quando per acquistare un bene noi dobbiamo disporre di una quantità enorme di soldi. Per esempio immaginatevi che inflazione ci sarebbe se un chilo di pane invece che costare quei 4,50, 5 euro costasse 20 euro. Ecco con molti soldi possiamo comprare relativamente poco e cioè un chilo di pane. Per fermare questo aumento dei prezzi, questa inflazione, Diocleziano fece una legge che fissava il prezzo massimo di vendita di tutti i tipi di merci scambiate nell'impero. Poiché serviva danaro per coprire i costi sempre più alti dell'esercito, Diocleziano cambiò anche il modo di riscuotere le tasse. Come fece? Stabilì che ogni anno bisognava prevedere con esattezza la spesa dello Stato per l'anno successivo. La legge di bilancio, questa spesa andava suddivisa tra i sudditi in base alla quantità di terra posseduta o lavorata, oppure in base alla quantità di lavoro svolto se erano funzionari, artigiani o commercianti. E quindi per la prima volta ogni suddito seppe con certezza quanto avrebbe dovuto in quell'anno versare allo Stato. Come cambia l'impero romano con Costantino e con Teodosio? Come diventa imperatore unico Costantino? Ma come? Non c'era la tetrarchia? Eh no, perché Costantino cambia le regole del gioco. Il sistema della tetrarchia fu accantonato ed era il 305 quando gli Augusti Diocleziano e Massimiano lasciarono il trono e subito vi furono di nuovo lotte per il potere. Queste lotte finirono nel 312 quando Costantino sconfisse tutti i rivali e fu proclamato imperatore unico. Costantino regnò dal 312 fino al 337 e fu un imperatore molto potente, molto temuto. Che cosa fa Costantino nel suo primo anno di regno? Considera che i cristiani, a parte il fatto che si rifiutavano di inginocchiarsi all'imperatore venerandolo come una divinità, erano rispettosi delle leggi e quindi ritiene vantaggioso averli piuttosto come alleati che come nemici. Per questo nel 313 con l'editto di Costantino concede la libertà di culto e cioè dà ai sudditi la libertà di scegliere quale religione praticare. Non solo, lo stesso Costantino si fa battezzare come cristiano e usa la chiesa per rafforzare il proprio potere. Da un lato permise alle comunità cristiane di ingrandirsi, di costruire nuove chiese, di organizzarsi sempre meglio e dette ai vescovi delle città dei poteri simili a quelli dei funzionari imperiali, quindi conferì loro dei poteri politici, non solo religiosi. Dall'altro usò la fede nel dio dei cristiani per unire e rafforzare l'impero. Anche per questo aiutò la chiesa a combattere le eresie, cioè ad attaccare quei cristiani che non erano d'accordo con gli insegnamenti ufficiali della chiesa. Tra questi, l'abbiamo già detto, c'erano gli ariani che sostenevano che Gesù fosse stato solo un uomo in vita, che avesse avuto solo una natura terrena, umana, anche se figlio di Dio, mentre per gli altri cristiani Gesù è insieme Dio e uomo. L'arianesimo rischiava di mettere in pericolo l'unità dell'impero e per questo Costantino riunì nel 325 tutti i vescovi e dichiarò gli ariani eretici. Fino a quel momento Roma era rimasta la città simbolo dell'impero, per Costantino invece l'impero aveva bisogno di una capitale nuova, tutta cristiana, e nel 330 lui scelse la città di Bisanzio perché era ben difesa in una posizione strategica sul Bosforo per i commerci tra l'Europa e l'Asia minore e l'imperatore cambiò il nome di Bisanzio in Costantinopoli, cioè Costantino Polis, la città di Costantino, ma tutti i suoi abitanti la chiamavano Roma e chiamavano se stessi Romani perché il centro dell'impero romano ormai era lì. L'imperatore stesso la chiamava la Nuova Roma e fece costruire infatti Costantinopoli sul modello dell'antica Roma, ma come capitale della cristianità. Mentre questa Nuova Roma era sempre più grande e sempre più bella e lo è rimasta poi nel tempo, oggi Costantinopoli è la città di Istanbul, la vecchia Roma diventava via via meno importante e meno sicura. Alla morte di Costantino l'impero attraversò un altro periodo difficile fino a quando nel 379 divenne imperatore Teodosio. Che cosa fa Teodosio? Nel 380 dichiara il cristianesimo religione di stato, cioè l'unica religione ammessa nell'impero. Era obbligatorio essere cristiani. Da quel momento iniziò però la persecuzione al contrario e cioè di quelli che non erano cristiani, che abitando nei Pagi venivano chiamati pagani. Che cosa sono i Pagi? Sono dei piccoli villaggi. Poi Teodosio fermò le invasioni sul confine orientale trovando un accordo con i Germani. In che cosa consisteva questo accordo? Lui pagava un tributo ai Germani e li autorizzava a vivere nei territori dell'impero, però in cambio loro dovevano impegnarsi a fermare gli altri invasori. Muore Teodosio nel 395 e l'impero risulta ancora diviso in due, come ai tempi di Diocleziano. L'impero d'Occidente con capitale Ravenna fu affidato al figlio di Teodosio di nome Onorio e l'impero d'Oriente con capitale Costantinopoli andò invece al figlio di Teodosio di nome Arcadio. Nelle intenzioni di Teodosio questa divisione non doveva essere definitiva, ma di fatto fu l'ultimo imperatore a governare un impero unito. Approfondiamo sulle parole. Che cos'è il tributo? Nell'antica Roma le famiglie erano organizzate in tribù e il tributo era il contributo obbligatorio che dovevano versare allo Stato e che lo Stato riscuoteva appunto per tribù. E da qui la parola tributo è passata a significare tassa, a significare imposta. Oggi questo termine tributo indica anche tutto ciò che si dice e si fa per rispondere a un dovere, a un obbligo morale, oppure significa anche riconoscere a qualcuno i meriti per un'azione particolare. Può essere definito tributo un discorso o un'opera d'arte. In questi casi si usa l'espressione dare il proprio tributo oppure rendere tributo. Pausa. Torniamo sui Germani. Chi sono e come vivono questi Germani? Sono un insieme di popolazioni diverse chiamate dai romani barbari. Non erano un unico popolo ma un insieme di popolazioni differenti che vivevano al di là del fiume Reno, al di là del fiume Danubio e che i romani chiamavano barbari perché parlavano questa lingua incomprensibile. E c'erano per esempio i goti occidentali visigoti, goti orientali ostrogoti, i franchi, gli angli, i sassoni, gli alamanni, i burgundi, i vandali e molti altri. Tutte queste popolazioni avevano alcune caratteristiche comuni. Dal punto di vista sociale erano dei guerrieri, erano abituati a combattere a cavallo, le varie famiglie imparentate erano raggruppate in clan e più clan, alleati tra di loro, formavano una tribù. Talvolta, in caso di guerra, ogni tribù sceglieva un re. Erano anche questi popoli nomadi, ovvero si spostavano da un territorio all'altro. Dal punto di vista economico vivevano soprattutto di caccia, di allevamento e molto meno di agricoltura perché per coltivare la terra ci vuole un'arte e succede che dopo qualche anno di coltivazione la terra diventa arida, non è più fertile e quindi bisogna spostarsi oppure imparare a coltivarla per ottenere un nuovo raccolto. Cosa facevano questi germani? Bruciavano parti di foresta per coltivare i loro cereali e poi, quando il terreno non produceva più, si spostavano altrove e inoltre attaccavano villaggi e città romane per fare saccheggi e per portare via tutto ciò che a loro serviva. Dal punto di vista giuridico non avevano leggi scritte e in generale le persone si facevano giustizia da loro stessi. Oppure era il clan a punire o uccidere quello che veniva trovato colpevole di qualche delitto. Era la cosiddetta faida o vendetta privata che il clan metteva in atto. Quando invece la colpevolezza di una persona non era certa, questa persona doveva affrontare una prova molto difficile come per esempio mettere la mano sul fuoco oppure buttarsi nell'acqua gelida oppure nell'acqua bollente, camminare sui carboni ardenti. Se superava la prova voleva dire che era innocente perché Dio lo aveva aiutato. Queste prove si chiamavano ordalie oppure giudizi di Dio. Non hanno inoltre questi popoli una lingua scritta e sono pagani. Dal punto di vista culturale questi germani erano analfabeti senza alfa e beta e non avevano una lingua scritta ma sicuramente parlavano una lingua appunto per comunicare tra di loro. La loro cultura era soprattutto una cultura orale tramandata a voce. Si raccontavano storie sugli dèi, sull'origine dell'uomo, sull'universo, leggende, storie di eroi ma anche le leggi venivano tramandate a voce tra i germani. Dal punto di vista religioso erano pagani, cioè abitando in piccoli villaggi, in piccoli accampamenti, credevano in dei collegati alle forze della natura. E quando diventarono cristiani lo fecero per esempio aderendo per lo più all'eresia ariana perché era facile per loro credere alla natura umana di Dio ma non a quella divina. Pausa. Qual è il rapporto tra romani e barbari? I romani considerano i barbari arretrati, sì, ma non li temono. Prima delle invasioni i romani conoscevano da tempo questi popoli che vivevano al di là dell'Imes nei territori a est del Reno e a nord del Danubio. L'impero li accoglieva e molti di loro erano entrati nell'esercito romano, altri lavoravano come contadini e con altri avvenivano scambi commerciali. Tuttavia i romani consideravano questi germani rozzi, selvaggi, perché avevano un modo di vivere diverso da quello romano e anche li temevano perché erano molto violenti nelle loro incursioni nei territori dell'impero. Germani erano attratti dalla ricchezza e dai beni dei romani e con queste rapide scorrerie incendiavano gli edifici, uccidevano gli abitanti, saccheggiavano intere città e poi tornavano nei loro territori dove abitavano appunto in questi pagi, in questi piccoli villaggi che lasciavano dopo breve tempo perché erano spinti dal bisogno di trovare pascoli nuovi per il loro bestiame, nuove terre. Per questo e per la mancanza di leggi scritte i romani consideravano i germani popoli arretrati. L'intolleranza verso i germani era determinata anche da motivi religiosi e culturali, dato che l'istruzione era molto importante nel mondo latino e solo i poveri erano analfabeti, mentre per i germani l'educazione era improntata alla guerra e alla caccia. Era quella l'educazione, non imparare a leggere, a scrivere, a far di conto. Pausa. Da una fonte dello storico e scrittore italiano Alessandro Barbero. Gli scrittori romani tornano continuamente sull'ossessione che i barbari sono tanti, che sono troppi, che la Germania ne produce ondate su ondate, come l'oceano, e le steppe ne vomitano sempre nuove razze, ma in realtà questa retorica nel IV secolo è vecchia. Certo, i barbari sono gente bellicosa, bella in latino vuol dire guerra, quindi bellicosa vuol dire gente che fa le guerre e bisogna punirli spesso perché non imparano mai la lezione e se no non sarebbero barbari. Quando è passato qualche anno dall'ultima sconfitta riprendono coraggio, entrano in territorio romano, aggrediscono le fattorie, si portano via schiavi e bottino e allora gli imperatori devono intervenire, organizzano spedizioni punitive e a questo punto sono i romani che entrano nei paesi dei germani, bruciano i villaggi, massacrano donne e bambini, portano via il bestiame, distruggono i raccolti finché i capi tribù non vengono in ginocchio a chiedere pietà. In questa nuova prospettiva diventa perfino possibile accorgersi che molto spesso queste bande di povera gente che erano clandestinamente nell'impero sono solo gente che scappa dalla fame, dalla miseria, dalla violenza delle tribù nemiche, gente che non conosce altro linguaggio se non quello della forza ma che in realtà in molti casi è fatta solo di emigranti o profughi, profughi sono la gente che scappa, che chiedono terra e lavoro. Come mai altrimenti quando vengono sconfitti e catturati accettano così volentieri di essere messi all'aratro o di arruolarsi nell'esercito? Adesso parliamo di migrazioni. Perché i germani finiscono per travolgere l'impero? Che cos'è una migrazione? Lo spostamento di una popolazione da un luogo a un altro luogo. Le riforme di Diocleziano prima e le scelte di Costantino poi avevano garantito all'impero un po' di tranquillità economica e sociale. Ma dal punto di vista militare non era cambiato nulla perché le popolazioni germaniche continuavano a premere sui confini del Danubio e del Reno ed era sempre più difficile mandarle indietro anche perché sempre più spesso i guerrieri portavano con sé le loro famiglie, i loro animali. Non si trattava più di fare qualche razzia ma di trovare nuove terre dove abitare e quindi era una vera e propria migrazione. A partire dal 375 circa i germani cominciarono a essere sospinti dagli unni. Chi sono gli unni? Questi sono un popolo dell'Asia centrale molto aggressivo, molto pericoloso che avanzava verso ovest in cerca di cibo e pascoli per gli animali. Sulla loro strada gli unni incontrarono per primi i goti che verso la fine del IV secolo chiesero e ottennero all'impero di Roma di attraversare in pace il Danubio e di stabilirsi nei territori dell'impero come alleati di Roma. L'alleanza però durò poco perché nelle terre dove si erano fermati non c'era cibo a sufficienza e così qualche anno dopo la stipula di questa alleanza i visigoti attaccarono l'esercito romano che fu sconfitto ad Adrianopoli, una città vicino a Costantinopoli, oggi in Turchia. Gli imperatori fecero nuovi accordi con altre popolazioni germaniche e concessero loro di vivere sulle terre dell'impero in cambio di un aiuto contro altri invasori. Ma questo era un meccanismo pericoloso. L'impero accoglieva i germani come nuovi soldati perché aveva bisogno di guerrieri per difendere le frontiere, ma sulle terre avute dall'impero i germani non pagavano le tasse. Meno tasse l'impero riscuoteva, meno soldati romani poteva pagare e più soldati germanici doveva arruolare per difendersi meglio. Quindi più germani dentro i confini significava meno soldi nelle casse dello Stato e anche meno soldati romani nell'esercito. Conseguenze di questo meccanismo erano particolarmente pesanti per la parte occidentale dell'impero perché era più povera di commerci, era più debole, più affamata, meno popolosa. La parte orientale invece era più ricca, organizzata meglio e non solo riuscì a fermare l'avanzata di questi popoli ma la dirottò proprio verso occidente. Spinti dagli unni dunque i germani si spostarono verso l'Europa occidentale e dettero il via a un effetto a catena per cui tutte le altre popolazioni migrarono in cerca di nuove terre. Nel giro di mezzo secolo, 50 anni, l'impero d'occidente perse quasi tutti i suoi territori. Spagna, Nord Africa, Britannia, Gallia e qui come vedremo nasceranno nuovi stati cioè dei regni governati dai germani e chiamati regni romano germanici dove sorgono? Sorgono dalla Spagna al Nord Africa, dalla Britannia alla Gallia. Nuovi regni romano germanici. L'Italia però resisteva ma a prezzo di terribili razzie come quelle dei visigoti e dei vandali che misero a ferro e fuoco Roma rispettivamente nel 410 e nel 455. Pochi anni prima anche il terribile re degli Unni, Attila, aveva provato a invadere la penisola ma era stato fermato una prima volta quando si trovava ancora in Gallia e una seconda sul fiume Mincio vicino a Mantova da Papa Leone I Magno. Che cosa vuol dire vandalo? Oggi comportarsi come vandali significa distruggere qualcosa per il solo gusto di farlo. L'espressione a livello storico fa riferimento alla distruzione del popolo germanico che più ferocemente si accanì sul mondo romano rifiutando qualsiasi tipo di integrazione sociale e culturale. Questi furono i vandali. Leggiamo una fonte. Attila, flagello di Dio. Attila fu un uomo nato per scuotere le razze del mondo, il terrore di tutte le terre. Infatti in un modo o nell'altro tutti erano terrorizzati dalla feroce fama che si spargeva su di lui. Era altezzoso, sulla sua carrozza gettava il suo sguardo su tutti i lati in un modo tale che il potere della superbia si vedeva nei movimenti stessi del suo corpo. Amante della guerra, partecipava personalmente alle azioni, il più autoritario nei consigli, pietoso per i supplici e generoso verso coloro ai quali un tempo aveva dato la sua fiducia. Era piccolo di statura, con un largo petto, la testa massiccia e piccoli occhi. Aveva la barba sottile spruzzata di grigio, il naso piatto e la carnagione scura, il che dimostrava i segni delle sue origini. Gli unni erano cavalieri veloci e guerrieri ferocissimi. Al loro arrivo le popolazioni fuggivano terrorizzate cercando scampo altrove. Attila condusse il suo esercito alla conquista dell'Occidente a più riprese e però fu sconfitto dall'esercito romano nella grande battaglia dei campi catalaunici. Non so se avete notato il passaggio quando dice che è generoso verso coloro ai quali un tempo aveva dato la sua fiducia. Vuol dire in qualche modo che questa fiducia è stata tradita da qualcuno o da lui o dagli avversari. Un'altra fonte sempre su Attila che riguarda la sua morte dallo storico bizantino Prisco di Panion. Fragmenta historicorum grecorum. Al momento della sua morte Attila aveva preso in sposa una ragazza molto bella di nome Ildico dopo numerose altre mogli secondo il costume della sua razza. Preso da euforia eccessiva al suo matrimonio e fradicio per il sonno e il vino si distese sulla schiena. In questa posizione un'emorragia che normalmente sarebbe scaturita dal suo naso in quanto venne ostacolata nei suoi canali abituali si riversò nella sua gola e nel passaggio mortale lo uccise. Così l'ubriachezza pose una fine vergognosa a un re famoso in guerra. Perché nascono questi regni romano germanici romano barbarici e come si sviluppano. Nel quinto secolo dunque stiamo dicendo si formano regni in cui vivono insieme romani e germani. Però in questi regni che sono naturalmente nei territori che furono dell'impero romano i germani hanno le armi e prendono il potere. abbiamo visto che le popolazioni germaniche entravano nei territori dell'impero in modi a volte pacifici a volte molto violenti. In tutti e due i casi però il controllo dell'impero veniva meno e quei territori cominciavano ad avere una loro autonomia. Erano indipendenti si davano leggi proprie vuol dire questa autonomia. Rispetto alla popolazione romana i nuovi arrivati erano una piccola minoranza che però possedeva le armi e controllava l'esercito e per questo aveva il potere di comandare. Siccome erano affascinati dal modo di vivere romano i re germanici presero a comportarsi come dei piccoli imperatori e capirono presto che per governare non bastava la forza delle armi ma servivano anche esperienza e competenza per riscuotere le tasse, emanare nuove leggi, mantenere buoni rapporti con l'imperatore d'oriente e con gli altri re germanici e in pratica serviva molto altro che sapere maneggiare le armi per organizzare la vita dello stato. Non avendo queste competenze i re germanici lasciarono ai funzionari romani la gestione dell'amministrazione pubblica. Per quanto riguarda la giustizia decisero di far convivere le leggi romani scritte con le loro usanze di faida e ordalia. Le prime leggi scritte romane venivano applicate solo alla popolazione romana invece le leggi barbare venivano applicate ai germani. Sono regni poveri deboli di breve durata, i regni romano germanici nacquero in territori impoveriti dalle guerre, dalle carestie, la gente era così povera che si era tornati a un'economia di baratto, cioè ci si scambiavano le cose senza bisogno di soldi, senza bisogno di fare circolare danaro. Le città erano spopolate, non esistevano più le strade che durante l'impero avevano reso possibile il flusso delle merci, il flusso delle persone, il flusso delle idee e lo spostamento delle truppe e i romani non avevano forza per ribellarsi al dominio di questi nuovi signori ma non li stimavano e perciò non facevano nulla per aiutarli a consolidare il potere. Si trattò dunque di regni estremamente deboli, fragili che ebbero vita breve. Alcuni, come i regni degli svevi e dei burgundi, furono assorbiti dai regni vicini più potenti, altri, ad esempio quello dei vandali in Africa o degli ostrogoti in Italia, furono annientati dagli eserciti dell'imperatore d'Oriente. Di tutti solo il regno dei franchi ebbe una vita lunga e un ruolo importante. Pausa. Come crolla l'impero romano d'Occidente? È un impero sempre più debole. Gli imperatori d'Occidente se ne erano andati da Roma da più di un secolo. Il senato non contava più nulla dai tempi di Diocleziano. La loro sede era ormai Ravenna, città meno esposta alle invasioni barbariche e più facili da difendere. L'impero aveva perduto molti territori in Italia e quando Attila fu fermato alla metà del quinto secolo da Papa Leone I Magno fu chiaro a tutti che il vescovo di Roma era l'unico ad avere autorità e a preoccuparsi del popolo. Per una ventina d'anni a Ravenna il trono fu occupato da imperatori incapaci e deboli che si lasciavano manovrare dai generali di origine Barbara ai quali avevano affidato la difesa del territorio. Nel 475 un nobile romano riuscì a fare leggere imperatore suo figlio, un ragazzino di neanche 13 anni. Questo ragazzino si chiamava Romolo Augustolo, cioè piccolo Augusto, un diminutivo in senso dispregiativo, e rimase sul trono neppure un anno. Nel 476 il generale Barbaro d'Oacre, comandante in capo dell'esercito imperiale, depose Romolo che se ne andò a vivere a Napoli e prese il potere e quindi mandò le insegne imperiali a Costantinopoli in segno di obbedienza all'imperatore d'Oriente che autorizzò Odoacre a regnare sull'Italia. Con il crollo dell'impero romano d'Occidente inizia il Medioevo. Per gli storici la data della deposizione di Romolo Augustolo, 476, segna l'inizio del Medioevo e cioè dell'età di mezzo tra storia antica e moderna. Fu un crollo senza rumore non violento. Romolo Augustolo venne mandato in esilio e nessuno si ribellò a Odoacre e si concluse così questo lungo processo di declino iniziato con la crisi del terzo secolo. Il regno di Odoacre non durò molto. Verso la fine del quinto secolo in Italia arrivarono gli ostrogoti guidati dal loro re Teodorico. A Ravenna c'è ancora la tomba. Li aveva mandati l'imperatore d'Oriente verso occidente per allontanarli dai suoi confini e fare in modo che se la sbrigassero quelli dell'impero romano d'Occidente. Nel giro di pochi anni Teodorico sconfisse e uccise Odoacre che governava Ravenna e ne prese il posto come re d'Italia mantenendo la capitale a Ravenna. Cosa fece Teodorico? Cercò di costruire un regno dove ostrogoti e romani potessero convivere in pace, ciascuno però con la propria cultura, le proprie tradizioni, favorì la ripresa dell'agricoltura, fece restaurare le strade, fece restaurare gli acquedotti, le città, ma vietò i matrimoni mistici, cioè tra i goti e i romani, e favorì la divisione religiosa. I romani infatti erano cristiano-cattolici, mentre gli ostrogoti avevano mantenuto la religione pagana, oppure, l'avevamo detto, si erano convertiti al cristianesimo Ariano. Alla sua morte nel 526 nessuno riuscì a prendere saldamente in mano il governo e di questa debolezza, come vedremo, approfitterà l'imperatore d'Oriente Giustiniano. Pausa. Ora ci possiamo dedicare un po' alla pratica, allo svolgimento di qualche esercitazione e la puntata successiva riguarderà l'impero romano d'Oriente e l'Italia.